buonasera dal club milano va in scena la partita tra renard argente e meneghina calcio valida per il 23esimo campionato di calcio a 5 serie b vediamo chi avrà la meglio attenzione con questa palla e va a tirare in porta troiano intanto arriva il gol di meneghina che sblocca la partita con dario omega qui destro da fuori palla alta di poco attenzione osorio col sinistro attenzione troiano col sinistro e c'è la strepitosa risposta di tripodi e intanto arriva il pareggio con un gran destro da fuori da parte di tuo maiolo tira il volo e c'è la strepitosa risposta e intanto il gol di ortalli tanto sinistro il gol meraviglioso da parte di angiolini la palla è lì ed è strepitoso tomagra troiano semina l'avversario entra nera sinina destro troiano tocco dentro arriva il tuo maiolo su assist di troiano attenzione il sinistro e palla in rete nell'ultimo minuto ancora lui ivan tario mega finisce così sul proprio sul filo del rasoio nell'ultimo minuto il gol decisivo tre punti molto importanti per la squadra ospite che ci crede fino alla fine e porta a casa la vittoria con capitan tour di renard argente oggi bella partita peccato solo che l'avete persa proprio l'ultimissimo minuto comunque però avete giocato bene contro questi ragazzi che comunque sono molto bravi di menechina è stata una bella partita sì sì bella partita loro hanno sempre molta intensità anche l'andata noi siamo una squadra nuova che si è formata quest'anno stiamo cercando di migliorare di partita in partita dei miglioramenti li stiamo vedendo ma dobbiamo diventare un po più squadra tendiamo ad uscire dalle partite ad un certo punto e questo ci penalizza sul risultato però le prestazioni stanno migliorando oggi poi avevamo anche un po di assenti quindi siamo contenti perché miglioriamo ma c'è ancora tanta strada da fare una curiosità il nome da dove deriva il nome è lo sponsor della squadra un brand credo da mia moglie una linea di gioielli che ha creato da un anno a questa parte ci supporta con la sponsorizzazione della squadra allora grazie mille buon proseguimento e magari ci vediamo quando esatto ciao ragazzi siamo qua con matteo ortale di meneghina quanto è bello vincere così all'ultima azione all'ultimo respiro guarda veramente bellissimo vincere così dopo una partita dura dove eravamo in vantaggio sempre ma fino all'ultimo ci hanno schiacciato un po il renare la gente ma molto contenti veramente da tre partite che non vincevamo quindi ci voleva ripartite da qui con questa bella vittoria un ottimo calcio e un'ottima chimica di squadra alla fine voi siete tanti però riuscite a gestire bene il calcio 5 non è facile e vostro segreto niente è un allenatore che organizza le cose per bene ragazzi bravi che hanno tanta voglia di giocare quindi oggi anche sono mancati due o tre ragazzi quindi abbiamo una bella squadra dai piano piano andremo avanti tutti giovani ma con tanta voglia perfetto grazie mille ragazzi buon proseguimento e ci vediamo presto